Un altro sequestro finalizzato alla confisca eseguito dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, questa volta nei confronti del patrimonio di un commercialista di Melito Portosalvo, ritenuto contiguo alla cosca di Indrancheta degli Amonte, operativa nell'area grecanica. L'attività trae origine dal progetto denominato Pecunia 2 e ha riguardato sette fabbricati intestati al professionista e ai suoi familiari, tutti ubicati a Melito, per un valore complessivo di circa 1.900.000 euro. L'attività eseguita dai finanzieri ha fatto emergere, oltre alla pericolosità sociale del soggetto, già condannato per reati di associazione di tipo mafioso e di intestazione fitizia di beni, una considerevole sperequazione tra entrate ed uscite, a seguito della quale ogni acquisizione patrimoniale è stata ritenuta ingiustificata. Gli ha permesso alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria di disporre il sequestro del suo...